Presentato ieri 4 giugno presso il punto di comunità I Morticelli in piazza Plebiscito a Salerno, il progetto Casabio Senegal, ideato e portato avanti dalla giovane agropolese Francesca Bove, in collaborazione con Lega Ambiente e Cervene, nel villaggio di Bagadadi, nella regione meridionale della Kamanans in Senegal. Quattro anni di attività per un progetto di solidarietà e di ecosostenibilità che è nato durante la pandemia, con la realizzazione di un centro di formazione e di incubazione di start-up. Tenendo conto degli obiettivi e dei valori dell'Agenda 2030, per accrescere la consapevolezza di azioni e scelte che cittadini, comunità e istituzioni sono chiamate di intraprendere per garantire un presente e un futuro migliore al nostro pianeta e alle persone che lo abitano, il centro offre gratuitamente formazione su agricoltura biologica, allevamento responsabile, apicoltura e acquacoltura. Ogni percorso è associato all'avvio di imprese e alla certificazione dei prodotti, al fine di permettere alle popolazioni locali di entrare in un nuovo tessuto economico, ambientale e sociale. Il progetto Casa Bio sta per Casa Manse Bio, questa regione a sud di Dakar. Lì si stanno sviluppando dei progetti a favore delle donne, a favore dei giovani. Il 70% della popolazione africana è al di sotto dei 25 anni, un dato straordinario. Noi contribuiamo con azioni a favore dell'agricoltura e dell'allevamento sostenibile, a favore dell'artigianato locale, a favore delle donne che sono sottoposte ancora a pratiche ancestrali, pensiamo alle spose bambine, perché le donne possono attraverso anche, come è successo in Occidente, attraverso il lavoro, possono riscattarsi da una condizione di subalternità. Per dire, i cicli di agambiente hanno trasferito delle arnie per l'apicoltura, perché lì è diffusa, però magari mancano strutture di questo tipo. E poi una cosa che vorremmo fare, contribuire a far partire progetti di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, pratiche sconosciute in molti paesi africani, benché l'Africa soffra di un problema grevissimo, che è il mancato smaltimento delle plastiche, che arrivano lì a gugu, mentre da noi magari ogni 9 bottiglie di plastica, ogni 10 bottiglie, 9 vengono riciclate in Africa, vengono disperse nell'ambiente. Piccole pratiche, così come il compostaggio domestico, per noi dire che l'ambiente, soprattutto la provincia di Salerno, è come ritornare ad alcuni anni fa, quando abbiamo avviato nella nostra provincia queste buone pratiche, che adesso sono diventate pratiche di successo, certo migliorabili, ma sicuramente hanno cambiato il volto del sistema di produzione e di smaltimento dei materiali, li chiamerei così, anziché rifiuti. La presentazione del progetto è stata arricchita dal racconto dell'esperienza di Francesco Sant'Andrea, Marta Cornacchia e Nicola Donati, dell'associazione Progetto A di Faenza, riguardo l'incontro con Francesca Bove al termine del loro viaggio verso il Senegal su una panda 4x4 attraversando Marocco e Mauritania. Da questo incontro è nata una collaborazione che vedrà i rappresentanti del progetto A, impegnati soprattutto nella formazione della popolazione locale sul riciclo dei rifiuti. L'associazione è nata un anno fa, ad aprile 2023, appunto nella nostra città natale, che è Faenza, per questa voglia di concretizzare la nostra passione più grande, che sono i viaggi, i viaggi on the road, appunto concretizzando l'esperienza anche al ritorno e cercando di lasciare un'impronta, lasciare, sì, un'impronta nel nostro passaggio nei territori che andiamo a visitare. L'anno scorso siamo stati in Africa un mese, abbiamo fatto, abbiamo ripercorso la tratta della Parigi-Dakar che appartiene alla Faenza, quindi la Faenza-Dakar. Abbiamo quindi incontrato Marocco, Mauritania e Sierengali in Africa e niente, quindi siamo un po' in giro per raccontare quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo visto e i legami che abbiamo creato e instaurato, appunto, con altre associazioni durante il percorso e a compimento del percorso. L'obiettivo di questo viaggio, appunto, era oltre ad arricchirci noi, a capire i posti che visitavamo, quello che volevamo fare, appunto, e poi in primis ovviamente il viaggio. L'altra cosa molto interessante, appunto, è stata che nel momento in cui siamo arrivati alla fine del viaggio, abbiamo, abbiamo, ci siamo accorti che durante tutto l'itinerario e avevamo un argomento in comune che ci aveva molto impressionato e che, appunto, era l'argomento dei rifiuti, come erano gestiti e abbandonati in maniera selvaggia. Quindi, insieme, appunto, a Francesca abbiamo trovato terreno fertile, appunto, per sviluppare un progetto sulla raccolta e rivalorizzazione dei rifiuti. L'idea di base era quella di affrontare il viaggio in totale autonomia. Abbiamo quindi acquistato due auto che, alla conclusione del viaggio, abbiamo donato a un'area marina protetta vicino a Dakar, ma abbiamo deciso come, diciamo, penultima tappa, o comunque la tappa più a sud del viaggio, di andare ad incontrare questa Francesca di Casa Bio. Ci siamo subito trovati molto d'accordo su alcuni punti di vista, soprattutto quello dei rifiuti. Abbiamo fatto, prima di partire, una raccolta del materiale utile, avendo una lista forniteci da lei, di materiale sanitario, materiale scolastico per le scuole della zona. E quindi, niente, abbiamo deciso di raggiungerla, siamo riusciti a raggiungerla dopo tutte le varie peripezie di questo viaggio. E, niente, abbiamo, appunto, instaurato il primo rapporto donando questo materiale. Ben deciso tutti assieme di portare avanti questo progetto, chiamato un ballit, che vuol dire rifiuto, in Wolof, la lingua senegalese. E quindi, niente, cercheremo di trovare sostenitori, fondi per, intanto, cercare di sensibilizzare le nuove generazioni e insegnare come poter utilizzare i rifiuti che vengono adesso gettati.